ARIA FERMA ARIA FERMA All'inizio pensavo che le musei del cinema erano le mie azioni. Scrivendo io volevo la rinunicità. Vincere su questa colpevolezza. A noi ci servono solo i documenti. Per te è facile, eh? Perché sei normale. Noi senza circo siamo solo una banda dei vostri! Ma non c'è sopra nessuno. Manco la guerra. Levati! Dammi un bacio e me nevole. Oh! Baci proprio da schifo! Tu sei speciale, ragazzi. Il mio non è un dono. È una maledizione. Buonasera a tutti! Allora, siamo pronti? Qui rido io. Facete un manciadino! Felice social book è un'eredità e una rendita. Dovete recitare tutto quanto social book. Non c'è scappa. Non c'è scappa. Per me tutti questi discuti sono vane. Non esistono teatri più o meno d'arte. Esistono gli artisti. Bellissime cinquine, bellissime candidature quest'anno. In particolare. Allora. Aspetta. Il miglior film, Davide Donatello, 2022, è stata la mano di Dio. Prodotto da Lorenzo Mieli e Paolo Sorrentino. Regia di Paolo Sorrentino. Allora. Ne avremmo esaginato? No. No. Voi già alla busta? Mi ero dimenticato di ringraziare voi, mia mamma, mio padre, mio fratello, mia sorella e tutta la mia famiglia che ho camuffato dentro il film senza la quale il film non ci sarebbe stato. Grazie a tutti veramente. Poi lascio la parola a chi vuole parlare. No, nessuno. È veramente una grande gioia. È veramente una felicità. Grazie mille. Grande regista, una grande squadra di attori, un bellissimo film. Per l'occasione abbiamo anche rifatto un po' il Davide quest'anno. Grazie mille. Grazie mille.